Tensione politica alle stelle in Pakistan dopo l'arresto del leader dell'opposizione Imran Khan. Khan è comparso davanti al tribunale speciale del quartier generale della polizia di Islamabad, dove è stato chiesto a un giudice di approvare la sua detenzione fino a 14 giorni. Dopo l'arresto sono esplosi disordini in tutto il paese che hanno portato alla morte di almeno una persona. Khan è il settimo ex primo ministro ad essere arrestato nella turbolenta storia politica del Pakistan. Dal canto suo Khan, 72 anni, contesta le accuse a suo carico, corruzione e sedizione, affermando che si tratta di una persecuzione politica da parte del governo guidato dal premier Sharif.